Perchè porti giù tutto? Quel signore mi ha detto di scendere. Chiedilo a lui perché, con quella sua vecchia barba abbarbuta. Non c'è posto per tre letti giù in basso. Vivi insieme a qualcuno? Sì. Non me l'avevi detto. Come no? Te l'ho scritto in una mail. Quale mail? Ma non so più quale di preciso. Una delle mail che ti ho inviato. Non ho ricevuto niente. Allora perché mi hai detto che preferivi dormire in albergo? Per non creare disturbo. Senti, comunque sia, te l'ho scritto. Non ho ricevuto niente. Non ti sei chiesto perché volevo che tu venissi a firmare il divorzio? Lui sa che sono qui? Sì. Bene, io me ne vado. Finché sei qui lui non verrà. E se venisse mi avvertirebbe, sicuro. Quando me l'hai inviata quella mail? Non mi ricordo. Sarà nella casella della posta inviata, no? Sì, dovrebbe. Vuoi che te la faccia vedere? Ti avevo chiesto di prenotarmi un albergo. È quello che ho fatto l'altra volta, ma non sei venuto. E ho dovuto annullare. Quanto ti è costato annullare? A che ora devo essere in tribunale domani? Credevo che restassi per parlare con Lucy. A che ora torna lei? Non so proprio. Le darò appuntamento da qualche parte domani. Speravo che una volta nella vita mantenessi una promessa.